Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggio e mi trovo a volto di Costa Smeralda. Adesso sono a Ponte 6, Matera, e vi farò vedere uno degli undici ristoranti che si trovano a posto della nave. Questo ristorante si chiama Il Menedito. Venite con me. Grazie a tutti. Spero vi sia piaciuto, vi aspetto a bordo di Costa Smeralda. Ciao!